Incidente stradale ieri sera poco prima delle 22 a Clusone, lungo il tratto di Provinciale tra le curve della Selva e la Rotonda per Piario. Si sono scontrate una moto BMW di grossa cilindrata condotta da un 37enne e una bicicletta guidata da un 17enne. Entrambi della zona nella caduta sull'asfalto hanno riportato contusioni ed escoriazioni. Dopo l'allarme dato da alcuni automobilisti di passaggio, il 118 ha inviato sul posto l'automedica e due ambulanze. Dopo le prime cure sul posto, i due feriti sono stati portati con codice giallo all'ospedale di Piario. Sempre a Clusone, questa mattina poco dopo le 11, un altro incidente, questa volta tra un auto e una moto, si è verificato all'altezza della rotonda di via Brescia, lungo la tangenziale che porta a Rovetta. Qui si sono scontrati una moto Ducati condotta da un 38enne della provincia di Milano e una Citroen guidata da una 36enne di Rovetta. Lieve conseguenze per il motociclista che con un'ambulanza del corpo volontario Presolana è stato trasportato all'ospedale di Piario, per lui tre giorni di prognosi. Il Lesa invece la conducente dell'auto. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Clusone.